Ce l'hanno fatta, sono riusciti a farmela mettere la museruola, l'ho indossata praticamente mentre entravo dentro l'ufficio postale ed è stato interessante come esperimento e come esperienza perché avevo 25 persone prima di me nell'unico ufficio postale che hanno lasciato aperto nel quartiere più popolato di Genova. Con pazienza mi sono messa in coda senza mascherina e ho fatto un esperimento. La mascherina io la conservo dentro la busta con il logo della protezione civile. Io ho messo questo logo della protezione civile in bella vista insieme alla busta nella quale c'erano dentro i documenti che mi servivano per il bonifico. È stato interessante vedere come sono cambiate le espressioni degli occhi perché io vedo solo gli occhi delle persone non potendo vedere altro del loro viso. Non vedo più sorrisi, non vedo più musi, non vedo più niente. Ho metà dei messaggi anaverbali che possono mandarmi le altre persone. Posso guardare il loro corpo più delle volte. E niente, nel momento in cui ho preso questa busta, l'ho tirata fuori e l'ho messa in bella vista, il loro sguardo da inquisitore è passato a timore. Vuoi vedere che questi cretini mi hanno preso davvero per una della protezione civile? Non mi stupirebbe. Sono talmente influenzabili, talmente ingannabili, che qualunque cosa diventa utile mezzo per influenzare la gente. quindi sono entrata dentro l'ufficio postale, mi sono infilata sta cazzo di mascherina, oh non si respira con quella mascherina, non si respira proprio. Poi siccome io sono anziana e ho letto tantamente tanto nella mia vita ad essermi consumata gli occhi, devo per forza indossare gli occhiali perché non leggo bene. E quindi siccome la petulante impiegata di 25 anni, che poteva essere tranquillamente mia figlia, si è permessa di farmi ricompilare il modulo perché non era quello giusto e io osservando la differenza tra i due moduli ho semplicemente scoperto che l'unica differenza era parola pay. Non c'era altro di diverso, il modulo era tal quale, mancava solo questo piccolo loghino. Ma io, ubbidiente, silenziosa, ho preso, ho ricompilato tutto il modulo con estrema calma e nel frattempo mi si appannavano gli occhiali e quindi me la sono dovuta scostare, scostarla dal naso per riuscire a non far appannare col respiro gli occhiali. Poi mentre la petulante impiegata Babbanetta, la bimba minchia, faceva il suo lavoro in maniera pedante, mi sono guardato intorno e ho osservato che l'ufficio postale era dotato di barriere di vetro. Io stavo alla distanza di un metro dietro la linea da loro contrassegnata. C'era un'impiegata che la mascherina non ce l'aveva proprio. A quel punto cosa ho fatto? Mi sono tolta la mia mascherina e l'ho messa lì. Non l'avessi mai fatto. La petulante bimba minchia mi ha detto signora, lei deve mettere la mascherina. E io, ubbidiente, ho preso la mascherina e me la sono rimessa. Spostandola di nuovo dal naso, perché se devo firmare un documento, se devo guardare con gli occhiali quello che devo firmare ed è un mio diritto poter leggere quello che firmo, ovviamente mi si appannano gli occhiali. In tutto avrò tenuto la museruola a dire tanto dieci minuti, non di più, perché ho fatto il minimo indispensabile in quell'ufficio, me ne sono andata e me la sono tolta già mentre uscivo. La petulante impiegata da me non ha ricevuto né un buongiorno, né un per favore, né un grazie, né un arrivederci. E ci è rimasta male la pischella. Bene, bene ragazza mia, spero che ti faccia tanto tanto bene, perché io d'ora in poi, avendo a che fare con degli zombie, purtroppo devo venire meno a una parte della mia natura che è spontanea. Io sono spontanea, sono gentile spontaneamente. Sono una persona dal cuore immensamente generoso e empatica, so percepire gli altri senza che neanche parlino. Sono uscita e è stato liberatorio per me finalmente respirare. Ora signori, ma voi credete veramente che il 18 di maggio riapre tutto? Guardate, io spero di sbagliarmi, perché se mi sbaglio, sbagliare non è un errore. Sbagliare è un bene, è bello sbagliare, se si sbaglia si impara. Non sbagli mai, non c'è mai niente da imparare. Però, siccome so leggere e scrivere, sono andata anche a leggermi un articolo che compassionevolmente vi metto nella descrizione di questo video, del sito money.it, d'accordo? Io leggo gli articoli che riguardano la finanza e cash, i dinghi e palanche, l'argento. Signori, qui ci stanno raccontando, non c'è altro neogoverno, che c'è un decreto che si chiamerebbe rilancio. Doveva essere fatto ad aprile, poi l'hanno spostato a maggio e ora appare truffa truffa ambiguità, che forse potrebbe essere anche spostato a giugno. Perché? Loro utilizzano come argomentazione due parole inglesi. Temporary framework. Badate bene. Che quando usano parole inglesi, c'è la fregatura. E come si dice qua a Genova? Pijala into queue l'en lampo. Ve la ricordate? La spending review. Ecco, è quella che va chiuso gli ospedali, è quella che ha chiuso i reparti, è quella che ci ha costretto a stare tappati tutti in casa, perché la nostra sanità è allo sfascio. La spending review è quella che ha tolto 34 miliardi di euro in dieci anni. La spending review è quella che ha tolto 70.000 posti letto. E ve lo ricordate? Ubeilì, mi sono zienese e ve parlo in zienese. Visto che vi piace l'inglese, ve lo dico bello scandi io. Ubeilì, per gli altri zienesi, l'organo di riproduzione maschile. Ubeilì che te neghe, ubeilì che te pigi in tucù. Ubeilì. Quindi, per gli altri zienesi, già ubeilì, avevamo dei sospetti che poi sono stati confermati perché abbiamo visto quanti favori hanno fatto al sistema bancario e come stanno continuando a fare. Ora voi vi trovate di nuovo, cari italiani, con queste due parole in inglese. Temporary framework. Io devo essere onesta. Quando il ministro Gualtieri spiega nell'articolo di Money.it che cosa cazzo è a questo temporary framework. Facendo uno sforzo con la mia formidabile intuizione e intelligenza, io capisco che sia sostanzialmente vedere come andrà avanti il loro fasullo indice epidemiologico che determinerà se loro faranno e quando faranno questo benedetto decreto. Nel concreto però mi sono andata a vedere quanto la propaganda del mainstream sta facendo su questi benedetti 25 punti che prima erano 40 e poi sono diventati 25. Ora a rigor di logica, scusate, ma se davvero il 18 riapre tutto, perché vogliono prolungare di altre 9 settimane la cassa integrazione? Forse per arrivare al 31 di luglio? Perché se davvero loro il 18 vogliono riaprire tutto, stanno reintroducendo, anzi, intanto stanno introducendo delle proroghe alla briciole e alle miserie che hanno promesso fino adesso e che sono arrivate a ben poche persone. Parlo dei famosi 600 euro per gli autonomi, parlo dei famosi 600 euro che dovrebbero dare a questi disgraziati del turismo, dello spettacolo, eccetera. Ma questi adesso ci pigliano per il culo parlando di reddito di emergenza. Poi sapete di che cosa si tratta? Due mesi. Allora, o è una tantum o è bitantum, cioè due mesi. Come fai a chiamarlo reddito? Reddito nell'immaginario di una persona può sembrare una cosa che è a lungo termine. No! È come il reddito di cittadinanza. Può durare un anno, un anno e mezzo. Poi finisci. Quindi, altra cosa interessante che ho letto in questo articolo di money.it, la storia della protezione civile, che sta chiedendo al governo di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. D'accordo. Dobbiamo vedere che cosa decide il primo ministro, il grande capo, il dittatore unico, sua maestà imperiale. Vedremo. Ma anche darsi che non lo accetta. Oppure no? Nessuno di noi sa assolutamente nulla. Infine, sempre dentro a questo articolo, si parla del bonus che danno di 500 euro agli edicolanti per avere venduto la loro carta straccia, la loro propaganda. Allora, ai lavoratori, come mio marito, che si sono fatti un culo così dentro la grande distribuzione senza farsi nemmeno un giorno di riposo e di mutua, hanno dato, in proporzione allo stipendio, una fettina dei 100 euro promesse ai lavoratori. E siccome ci siamo presi, mio marito si è preso, una settimana di ferie per riuscire a fare un trasloco, che non augura io, non augura nessuno un trasloco in tempo di emergenza sanitaria, perché se lo augura qualcuno è a qualcuno che odia. Fate conto che io adesso, quando mi fa incazzare la gente, non è che gli auguro di crepare, gli auguro di farsi un trasloco con il coronavirus! Minchia vi faccio più male! Bene, noi ci siamo presi, si è preso questa settimana, gli hanno ridotto in percentuale i famosi 100 euro. Quindi, questi danno 100 euro a gente che lavora nei supermercati, nella grande distribuzione, che ha affrontato tutto quello che ha affrontato a cominciare dal 23 di febbraio, quando come dei folli voi italiani siete andati a svaliggiare i supermercati, c'è stata gente che si è picchiata per prendere la farina e la pasta. E invece, l'edicolante, che ha anche ben poco da fare dal momento che non è che hanno tutta questa vendita ai quotidiani, si beccherà 500 euro e non finisce lì. Verranno date agevolazioni alle grandi aziende che si fanno pubblicità sui giornali. Paghiamo noi la pubblicità delle grandi aziende, perché signori, tutti questi un attanto, tutti questi redditi, tutta questa roba è presa dalla fiscalità generale. Perché? La pagano i contribuenti, sta roba, non la paga di tasca sua il ministro. D'accordo? Quindi? No, qui sotto non ci sono commenti. Non ci sono commenti, prima di tutto perché sono stanca di questo pullulare di pettegolezzi che noi facciamo sul web. Questo video, come tutti gli altri che sono pubblicati su questo canale e sugli altri due canali che ho, è per me, non per voi, per me. Perché io non mi odio così tanto da voler indossare la mascherina. Perché io non sono così terrorizzata dal virus, sono, ripeto, terrorizzata da voi. Perché non ho tutto questo senso di colpa nel non mettermela. Né tanto meno sono così codipendente dal vostro giudizio. E perché riesco a fare queste quattro cose? Perché, ripeto, sono quarant'anni che lavoro su me stessa, li vedete, questi capelli bianchi? E io me li sono guadagnati, come diceva la grande Anna Magnani. Lei sì che è un esempio di donna. Lasciatemi i miei capelli bianchi e le mie rughe. Sono le mie medaglie. Dicevo, quarant'anni che lavoro su me stessa, ho cominciato a sedici anni nel 1980. Perché io sono un'ex bambina prodigio della classe operaia. Ma questa è una storia che vi racconterò un'altra volta. Quando ho iniziato io nel 1980 a parlare alla gente di olismo, di omeopatia, o semplicemente di buttismo, o di studio di altre religioni, di altre modalità di intendere la vita, se andava bene, mi pigliavano solo per il culo. Se andava male, mi trattavano come pazza. Adesso, dopo quarant'anni sul web, oh, sono tutti guru, sono tutti coach, sono tutti lì pronti a salvarci. Badate bene che quando in una situazione come questa, dove chi governa ormai è a livello di un criminale psicopatico che inventa un terrore invisibile, non è solo pericoloso lo psicopatico che ti fa temere quello che tu non vedi, è pericoloso anche chi cerca di salvarti. E di fatti, a me non mi convincono tutti questi influencer che ci sono su YouTube. Sto parlando di, nell'ordine, Luca Nalli, Ingegner Negri, Morris Sun, Il Greg, Andrea Libero Gioia, eppure il generale Pappalardo. No, no, cari, io vi osservo, io vi ascolto, e no, non siete voi che potrete liberare me, io libero me, cicci. Ah, ho detto che non potete mettere i commenti qua sotto. Certo, state con voi stessi, perché i miei video sono il sabotaggio al sabotatore interno che avete. Bye!